Se non rubare è uno dei dieci comandamenti, non rispettarlo e farlo addirittura in una chiesa può rappresentare una delle forme massime di non avere dignità. Questo è quanto accaduto qui lunedì 17 gennaio verso ora di pranzo nella chiesa di San Giovanni Bosco di Osteria Nuova. All'interno della chiesa infatti è entrato un giovane ragazzo di 34 anni, residente a Rimini ma originario dell'Argentina, che è entrato prima e poi uscito dalla chiesa con un bottino di appena 100 euro. Un piccolo furto che ha però generato tanto rumore. La confusionare a ricerca di denaro da parte dell'uomo all'interno della chiesa ha attirato l'attenzione di Don Marcellino Rediu, sacerdote della parrocchia che abita in uno degli appartamenti dell'edificio. Fin dalla sua abitazione infatti ha potuto sentire il rumore dei mobili che venivano spostati, portandolo poi a verificare quanto stesse accadendo. Una volta che si è ritrovato davanti al ragazzo il parroco gli ha chiesto cosa stesse facendo e alla sua domanda il giovane argentino gli ha risposto che stava semplicemente curiosando, non facendo nulla di male. Uno strano atteggiamento da parte del giovane che ha insospettito Don Marcellino che lo ha prima allontanato dalla chiesa, dopodiché il giovane si è dileguato, il parroco a quel punto ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione di Montecchio. La presenza delle telecamere hanno aiutato gli agenti a risalire ai movimenti e spostamenti dell'argentino avvenuti all'interno dell'edificio, portandoli a scoprire poi in quali punti aveva agito. Il ragazzo infatti aveva rovistato in diversi mobili, compreso quello in cappella che conteneva le offerte dei fedeli, offerte che sono state rubate visto che il lucchetto che le custodiva era stato manomesso. Sempre dalle immagini di sorveglianza i carabinieri sono venuti a conoscenza dell'identità del sospettato nel giro di 24 ore, riconoscendo dunque il volto del pregiudicato 34enne argentino e che ora dovrà difendersi in giudizio dall'accusa di furto aggravato.